ok video per spiegare come si fa la PASMO qui video in giapponese comunque la PASMO per girare sui mezzi, sul treno, sull'autobus e quant'altro scritta in giapponese che basta prima in inglese e poi la schiamata in inglese noi dobbiamo farla la PASMO ok uscire il nuovo PASMO ok noi la facciamo bassa perchè tanto non ci serve di tanto inseriamo i soldini bassi possibilmente non ce li ha i soci ok ho 5000 quindi si inseriscono chi conta mica il resto ecco la PASMO ed ecco i soldini fine